Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, oggi sono qui come sicuramente avrete letto dal titolo per mostrarvi i prodotti terminati dell'ultimo mesetto, credo, mesetto e mezzo. Mi raccomando se non siete iscritti al canale, iscrivetevi per non perdervi più nessun mio nuovo video, lasciate un pollicino se questa tipologia di video vi piace e io direi di andare ad iniziare subito col farvi vedere tutti i prodottini finiti. Allora, direi che come vi ho fatto già vedere i prodottini sono un bel po', infatti sono andata a terminare quei prodottini che tenevo lì, che non avevo più voglia di utilizzare perché non mi erano troppo piaciuti, non mi avevano convinto, perché sono una persona che si stanca facilmente di usare gli stessi prodotti per tanto tempo, soprattutto se sono in formati grandi. Infatti il primo prodottino che vi faccio vedere è questo shampoo delicato per capelli grassi all'estratto biologico di Achillea, eccolo qui, di Ecos. Questo l'avevo acquistato da Tigotama tantissimo, tantissimo, tantissimo tempo fa, aveva una scadenza di 12 mesi e all'interno ci sono appunto 500 ml. Diciamo che non è che non mi è piaciuto in todo, infatti dal momento in cui l'ho cominciato a riutilizzare non mi è dispiaciuto proprio per niente. L'unica pecca è che questo shampoo, essendo per capelli grassi, andava davvero tanto a seccare il capello. Io non ho capelli grassi, ho la cute con problemi, quindi l'avevo acquistato soprattutto per quello. Se avete i capelli davvero tanto grassi, questo probabilmente è un prodotto che potrebbe fare al caso vostro. Prodottini che mi sono piaciuti, ve li faccio vedere in sequenza, dovrei averne solo due, sì. Sono questi due bagno doccia, appunto uno ve l'ho già fatto vedere nel video precedente, è il bagno doccia di Bottega Verde, questo dell'edizione natalizia, non mi ci dilungo, mi è piaciuto tantissimo, mi piace la profumazione, ce n'è un altro, probabilmente nel prossimo video non ce lo metterò neanche perché ve ne ho parlato in abbondante modo. L'altro bagno doccia che ho provato, appunto perché mi ispirava tantissimo sia la confezione sia il profumo, infatti è buonissimo, sono stata super ritentata di riacquistarlo, però ce ne ho ancora tanti in scorta, quindi non l'ho preso. Essenzie di Conad, bagno schiuma vellutante con estratto di altea e latte d'avena, all'interno ci sono 250 ml durata 12 mesi, buono, 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 io me lo sono portata al lavoro, ha tantissima schiuma, ha un profumo veramente paradisiaco, ne basta pochissimo e vi durerà veramente un botto. Questo se non mi sbaglio c'è anche nel formato quello grande. Poi sono andata a terminare questo lavamani qui di Bottega Verde, appunto, dell'edizione natalizia dell'anno scorso, con note di mela rossa caramellata, buonissimo, io ho adorato questa linea, quest'anno appunto l'hanno cambiata, e non ve ne parlo appunto perché già ve ne ho parlato tanto, 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 mi è piaciuto davvero molto. Allora, un paio di prodottini per la cura della persona, ve li caccio subito così li togliamo al volo. Mi sono trovata benissimo con questo detergente intimo Chili, questo era specifico per il ciclo, per quando si è il ciclo, ma vi dico la verità, io l'ho utilizzato prima, durante e dopo, e mi sono trovata veramente molto molto bella. pH 3,5, clinicamente testato, all'interno troviamo 200 ml di prodotto e vi dura veramente un botto, buono buono buono, lo riacquisterò sicuramente. Ho da consigliarvi due dentifrici, io di solito non li metto nei prodotti terminati, vi dico, siccome è la prima volta che provo tutti e due, sono sbalordita appunto dalla delicatezza di questo, che è l'Helmex, biancante delicato, sensitive professional, mi è piaciuto veramente un botto, 75 ml all'interno, non è aggressivo, non ha quel sapore di menta forte, nonostante in bocca poi vi lasci un profumo veramente spettacolare, quindi questo l'ho già ricomprato, ce l'ho in scorta e sicuramente lo utilizzerò prossimamente appena finisco l'altro che ho in uso. Mentre l'altro che mi è piaciuto, sì, però oddio non mi ha fatto gridare al miracolo, è questo qui di AZ, ricerca, di white illuminante al carbone. Buono, sì, ma vi volevo ritrovare gli ml, 50 ml, ecco, erano scritti qua sotto, non li vedevo. In formato più piccolino, sì, molto pratico, magari da portarvi in giro invece di portare il tubone grande. L'unica cosa che mi fa dire lo ricomprerò, nì, non lo so, è un po' il prezzo, perché preso a prezzo pieno diciamo che non conviene tantissimo per la quantità prodotto all'interno, e poi seconda cosa è il fatto che all'interno ha dei microgranuli che possono piacere come no. A metà già mi iniziava a disturbare un pochino, infatti poi l'ho alternato con l'Helmex e ho terminato tutti e due. Ho ritrovato un altro bagno doccia, questa l'avevo portato sempre al lavoro, era sempre dell'edizione limitata, in questo caso di Yves Rocher, alla Mora. Molto buono, l'unica cosa è che era in gel, e avendo avuto l'occasione di provarlo un po' di più, ho notato che mi andava a seccare leggermente, leggermente. Giustamente la differenza tra bagno doccia e gel è proprio questa. Mi è piaciuto tantissimo, infatti ne ho anche un altro in scorta, prevedo di utilizzarlo e appunto magari di non rimettervelo nei prossimi video determinati. Altro prodottino che sono andata a cestinare, vi ho tenuto la confezione del nuovo, che ho adesso in utilizzo, è questo qui che è lo spazzolino Z Professional in setole morbide del MD. Ripeto, io questi prodotti di solito non li metto nei prodotti terminati, perché insomma ognuno poi utilizza gli spazzolini soprattutto che vuole, però questo mi sento di consigliarvelo tantissimo, perché ha un ottimo prezzo ed in più dura tantissimo, io li cambio spesso, penso come tutti quanti, però è molto molto buono, cioè setole morbide, morbidissime, ha delle parti in silicone, quindi non vi vado ad arrossare le gengive, e buono buono buono, se vi va fate un salto da MD e provatelo. Allora, altro prodottino che ho terminato è questa crema corpo di Bottega Verde, questa fa parte dell'edizione natalizia dell'anno scorso, ne era rimasta veramente poca all'interno e la sono andata appunto a terminare. All'interno troviamo 50 ml di prodotto, molto 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 buona come tutti gli altri prodotti appunto di questa linea, mamma mia, fa impazzire, vi direi ve la consiglio, ma purtroppo Bottega Verde fa uscire queste edizioni limitate appunto per Natale, e sono sicura però che l'anno prossimo ci stupirà in ugual modo. Altri due prodottini che vi consiglio sono questi pad di cotone, presi all'MD, all'interno ce ne sono 120, e sono quelli double fass, molto 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 buoni, l'unica cosa è che io non li prediligo, ma preferisco i maxi pad, infatti. Sono andata a terminare anche questi della Uovis, credo si chiami così, dove all'interno troviamo 60 dischetti leva trucco maxi, questi li avevo presi all'Inz, al supermercato, 100% cotone, molto buoni, ecco l'unica cosa è che sono un po' piatti, però per il resto noi ce li facciamo andare stra bene. Sono andata a cestinare questa spugnetta, che io ho sempre utilizzato per togliere appunto le maschere, oppure per andare a lavare il viso, questa l'avevo presa da Aliexpress, ed è della marca Menage, molto buona, l'ho sostituita con quella di Shein, che avete visto in un precedente video. Allora, campioncini ve li lascio per dopo, vi faccio vedere, allora sono andata a cestinare anche questa spugnettina qui, che adesso vedete piccolina, tutta rotta, era arrivata insomma l'ora, era della marca Cap Beauty Tools, buonissima, infatti l'avevo presa su Amazon, adesso non credo ci sia, però appena la ritroverò, la riprenderò perché è veramente ottima. Sono andata a cestinare, le avete visti sicuramente nel video decluttering, due mascara terminati, che uno mi è piaciuto, questo sapete che è il mio preferito di Essence, se non avete visto appunto i video decluttering, andate a recuperarli perché ne ho fatti due. Questo invece di Kiko, buono sì, ma non mi ha fatto gridare, infatti non penso che lo ricomprerò, perché dopo un po' di tempo era addirittura quasi già secco. Poi cestino anche questo eyeliner di Chatee, credo si chiama, Siatee, Siatee non so, comunque è un eyeliner che avevo da veramente tanto tanto tempo ed era chiuso, l'ho provato ad utilizzare, ma forse mi sarà durato due settimane, infatti poi non scriveva più, quindi via nel cestino. E l'ultimo prodotto makeup è appunto questo, il Brow Satin di Maybelline, che sono andata a sostituire con uno nuovo, perché questo aveva veramente troppi, troppi, troppi anni. Poi ho terminato questo stick labbra dei Provenzali, qui al burro di Karité, mamma mia, un profumo spaziale, diciamo che preferisco usarlo soprattutto in inverno, quando le labbra sono davvero, davvero strasecche, perché già in primavera e estate prediligo qualcosa di un po' più leggero. Ho terminato questa crema giorno anti-età potenziata, a retinolo plus di Bottega Verde, questo era un campioncino, all'interno c'erano 10 ml di prodotto durato a 12 mesi, molto molto buona, sì, ma niente di spettacolare, cioè una crema abbastanza pesante sul viso, molto nutriente. Vi faccio vedere qualche campioncino che sono andata ad utilizzare, questa che è la crema di Yves Rocher, ed è della linea Hydra Vegetal, questa linea insieme alla Sebo Vegetal mi fa impazzire, mi piace tantissimo, è una crema gel che mi piace tantissimo utilizzare durante l'estate, perché è leggerissima, non si sente minimamente, ma vi va comunque a nutrire la pelle. Due My Color fondotinta, effetto seconda pelle di Bottega Verde, con estratto di fiori d'arancio e vitamina E, due campioncini di questo fondotinta, buono buono buono, veramente, molto delicato, molto sottile, infatti era quasi come una BB cream, anche il colore devo dire che non era sbagliato, era colore 4, carino, ecco, non andrei a comprarlo domani, però mi è servito in occasioni l'ampo, l'ho messo per andare a lavorare, diciamo che ha retto, 8 ore, non si è mosso, insomma, da lì. Ultime due cosine, allora, salviette, queste qui, passepartout, molto buone, io amo il profumo di queste salviette, mamma mia, infatti ne ho anche un altro pacco aperto, sono diventate le mie salviette preferite, ripeto, passepartout, poi sono delicatissime, salviettine struccanti, queste della Cliosun, che avevo preso da MD, molto buone, l'unica cosa è che sono davvero sottili, quindi struccano sì, ma ecco, solo i residui, magari di makeup sul viso, se volete proprio andare a struccare gli occhi, non ve le consiglio, e poi carrellata di mascherine, allora, 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 vi faccio vedere, una che avevo preso da Makeup.it, anzi, ne sono due che avevo preso da Makeup.it, la prima è questa, idratante al cocco, molto buona, della marca Frudia, niente di spettacolare, ma neanche da disdegnare, anzi, assolutamente penso che la riprenderò, una che mi è piaciuta tanto, ma che già sapevo, della marca Esfolio, era questa, appunto, alla rosa, queste ve le straconsiglio, a volte le trovate anche a 99 centesimi, due mascherine prese da Amazon, una all'aloe e l'altra ai mirtilli, molto buone, queste, come vi ho detto, più o meno sono quasi tutte uguali, non ho notato particolari differenze, tra l'una e l'altra, e invece, mascherina che mi è piaciuta veramente tanto, è l'Hydra Bomb di Garnier, super idratante, rivitalizzante, con acido ialuronico, ed aloe vera, biologica, queste mi piacciono veramente, tanto, 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 infatti, adesso penso che girerò anche il video, degli acquisti, fatti da Acqua e Sapone, a Amazon, è un po' qui, un po' là, per farvi vedere, quelle che ho acquistato, recentemente, e con questo è tutto, io spero che il video vi abbia fatto compagnia, vi ricordo di iscrivervi al canale, appunto, e di lasciare un pollicino, e magari anche un commentino, per farmi sapere, se questi video vi piacciono, e quali di questi prodotti avete provato, o non provato, o vorreste provare, io vi mando, un bacio super grande, e noi ci vediamo sempre qui, sempre sul mio canale, con un prossimo video, ciao! Ciao!